Sfotteneto! Mi è piaciuto il cuore, mi è piaciuto l'impegno che ci è stato messo e mi è piaciuta la determinazione perché d'altronde ormai sono tutte difficili quindi se non ci metti cuore e determinazione non si vince. Erano favoriti dicevano e in attacco Spak Lukaku e De Bruyne li abbiamo sottomessi, un'ora e mezza, gli ultimi 10 minuti hanno provato a fare qualcosa sottomesso. È stato bello stare di nuovo tutti insieme dopo un anno così e veramente ti riempie il cuore di gioia poi soprattutto quando l'Italia gioca partite così è indescrivibile, bellissimo, un'emozione bellissima. Alla prossima Grazie a tutti.